Sono Vittorio Podestà, sono nato il 3 giugno 1973, ho fatto un incidente nel 2002, il 19 marzo 2002, dopo aver un incidente sul lavoro, io lavoravo da un anno e mezzo, quasi due, dopo essere diventato ingegnere in una società che lavorava sull'autostrada e io tornando dal lavoro, uscendo dall'ufficio, sono fatto un incidente e a quel punto la mia vita è cambiata. Adesso vedremo se è meglio o peggio, se non me è meglio. Fino a quel momento era una vita assolutamente soddisfacente, però di un ragazzo normale, anche molto condizionato come tutti, da molte scelte fatte come mediazione tra quello che vogliono i tuoi genitori, voglio la società e quello che vuoi veramente tu. Io invece quel 19 marzo mi sono ripromesso che era come rinascere per me e mi sono ripromesso da quel punto in avanti di decidere io esattamente come volevo la mia seconda vita, cioè come, non come volevo, ma come le varie decisioni le avrei volute prendere io senza troppi condizionamenti e devo dire che in parte ci sono, ci sto riuscendo, poi questo non vuol dire non fare degli errori, però il bello di questa seconda vita è per quello che dico che mi piace di più è che è veramente la mia vita al 100%, nel senso che l'ho ritrasformata in mia immagine e somiglianza e gli ho dato un'impronta, cosa che invece quella di prima era una bella vita, ma come tante, diciamo, questa è la vita di Vittorio Podestà. La mia prima vita era la vita di un ragazzo che cresce come tanti, che si diverte, che va bene a scuola senza essere il secchione della classe, che si diploma come geometra perché nonostante mio padre mi volesse mandare al liceo scientifico io non mi sentivo ancora all'altezza e allora ho scelto un istituto professionale e poi anche lì ho scelto di andare all'università di ingegneria, però lì non ho fatto la scelta che avevo voluto, io avevo la passione per la meccanica, invece, visto che provenivo dalla geometra, ho fatto l'ingegneria civile, un po' mediando perché mio padre faceva un po' il costruttore e allora anche lì è stata condizionata in quello. Nel 2000 mi sono laureato e nel 19 marzo del 2002 ho fatto l'incidente, dopo aver fatto il servizio civile e iniziato a lavorare, ho fatto questo incidente che mi ha tagliato in due, cioè non mi ha tagliato in due niente, nel senso che io sono rimasto quello di prima caratterialmente e forse questa è stata anche la mia fortuna, quella di capire che avevo fino a quel punto messo su un bagaglio di esperienze che mi sarebbero potute essere utili nel momento più difficile della mia vita. Diciamo che nella sfortuna sono stato fortunato perché la mia testa è rimasta intatta, quindi la mia capacità, ero quello di prima ero e non mi sono imbruttito nel pensare che ero l'unica persona sfortunata al mondo, ma ho pensato che invece ci era passato qualcuno prima di me tante volte, chissà quanti eravamo, senza saperlo, però ho detto non posso essere l'unico a cui è capitato questo, quindi ho detto beh vediamo invece che abbattermi e pensare che quella era la fine di tutto, ho pensato che invece era un nuovo inizio, da lì ho detto beh una delle mie, delle mie, di quelli che considero pregio difetto è la curiosità e allora mi sono incuriosito a vedere cosa ero capace di fare nel momento in cui era forse un po' più difficile, la cosa più difficile che mi è capitata fino a quel momento, sì avevo fatto tanti esami all'università, mi ero laureato, però quella era una prova, era la prova del 9, quelli di prima erano tutti i test, questo era lo stress test principale, poi ho avuto la fortuna anche di conoscere un amico che da subito mi ha detto dopo l'incidente, Vittorio sbrigati e uscire dall'unità spinale perché il mondo è fuori anche per quelli come noi, non chiuderti in un ospedale dove ti senti comunque magari il meno sfortunato tra gli sfortunati, ti senti protetto, ti senti comunque in un mondo a parte, no, tu devi far parte del mondo normale e quindi sentire una persona, non da tutti quelli che mi erano venuti a trovare all'ospedale, 200 persone in 15 giorni sono venuti a trovarmi dopo l'incidente, ero io che rincuoravo loro, loro mi dicevano ma sì dai, però tutti lo fanno perché devono rincuorare, ti vedono in un ospedale sapendo che non potrai più camminare è ovvio che ti devono rincuorare, invece sentire quelle parole di speranza così concrete da una persona che ha il tuo stesso problema tendi a crederci molto di più e quindi ho creduto a quelle parole, ho creduto che poteva essere comunque una vita soddisfacente e interessante ma non immaginavo che lo potesse essere così così tanto. Nella mia famiglia sempre scuola e sport più o meno avevano quasi la stessa importanza, sicuramente un po' più la scuola ma subito dopo veniva lo sport. L'unica difficoltà psicologica che avevo dopo l'incidente era questa, io ero appassionato di bicicletta, andavo in bici, nella mia famiglia il ciclismo era lo sport diciamo della famiglia, il papà piaceva il ciclismo quindi doveva piacere a tutti e io che ero ribelle finché ero piccolo non mi arrendeva questa cosa qua, allora io mi appassionavo al calcio, altri sport e quando invece, mio padre invece con mio fratello riusciva a essere molto più incisivo, mio frate è diventato poi subito un ciclista di un certo livello, io invece ho incominciato ad appassionare al ciclismo dopo che mio padre ha mollato la presa, cioè dopo che mio padre ha detto va bene con lui non riesco a condizionarlo troppo e da lì però è diventata una passione incredibile, poi era una passione non solo del ciclismo ma in particolare della meccanica, mi piaceva la bicicletta come mezzo, ecco il momento più difficile è stato quello del dottore quando mi ha detto che non avrei potuto camminare, quello l'avevo capito e gli ho detto il dottore mi dica qualcosa di più, ho capito che non potrei più camminare, chissà perché avevo questa sensazione, quella stessa notte in cui ho fatto l'incidente c'era questo dottore che era l'ultimo giorno che faceva in quell'ospedale a Parma dove ho fatto l'incidente lì vicino e che ha dovuto darmi questa notizia e lui mi ha detto guarda sì sicuramente sono parole che forse capirai più avanti però il tuo incidente non è così brutto come sembra perché le tue mani sono quelle di prima quindi tu non puoi camminare ma se lo vorrai potrai fare tantissime cose, non mi ha illuso ecco quello è un'altra cosa che ho considerato positivo nessuno mi ha dato delle illusioni mi ha detto come stavano le cose e mi ha detto però anche che cosa avrei potuto fare cioè mi ha dato il potenziale non mi ha detto sì ma poi sai ci sono nuove cure potrei tornare a camminare chissà magari sai si però no mi ha detto le cose tu non camminerai più però è quello che mi ha dato la curiosità di capire quella notte l'unica notte in cui mi sono un po' indisperato la preoccupazione principale non era di non poter più camminare ma di non poter più andare in bicicletta perché io consideravo la bici non solo il mio sport preferito ma la valvola di sfogo che ogni persona deve avere no? si arriva nervosi dal lavoro da casa si è litigato con la fidanzata con i genitori io sapevo che prendevo la bicicletta faceva due ore di allenamento tornavo che ero meglio di prima diciamo no? e quindi la mancanza di questa valvola di sfogo mi ha è quello che mi ha preoccupato cioè dovevo trovare un'altra valvola di sfogo perché tutti i disabili o non hanno bisogno di un di un qualcosa sul quale sfogarsi in momenti di di per non accumulare stress e roba varia e e quindi diciamo che c'è voluto un anno perché io dopo pochi mesi questo ragazzo il ragazzo di prima marco che mi ha detto sbrigati di uscire mi aveva detto io a settembre ti porto a giocare a basket in carrozzina e io ho detto basco in carrozzina cioè cos'è basco in carrozzina io devo dire che sulla divisa non sapevo niente e e lì è stata una cosa che ancora di più un'altra sensazione è quella di sentirsi un cretino a non sapere niente di un mondo che fa parte del mondo e per quello quando vado a raccontare della mia vita io faccio sempre esempio di come ero io e capisco le persone che non capiscono proprio perché io ero uno di loro e comunque mi ha detto torna ti porta a giocare a basket in carrozzina e lì a 7 da quel settembre lì intanto ho incominciato a capire che anche da disabile si poteva fare sport si poteva divertire si poteva sudare per un obiettivo quindi mi è piaciuto molto però diciamo che la svolta la folgorazione l'ho avuta quando ho visto questo mezzo qua che non aveva assolutamente la forma che vedete adesso ma che era comunque diciamo una via di mezzo tra una carrozzina con una ruota davanti un po più sdraiata stiamo parlando gli anni 2000 era sicuramente un mezzo che a me piaceva tantissimo lo vedevo già molto corsaiolo diciamo non era così però è già pensavo come avrei potuto migliorarlo modificarlo io da ingegnere già pensavo a queste cose e quindi lì io sono proprio impazzito impazzito in un senso positivo quando l'ho visto ma quando l'ho provato ancora di più perché una delle cose cui avevo pensato beh queste le farò nella prossima vita visto che ho fatto questo incidente era proprio quello di delle sensazioni che la bicicletta mi dava cioè il vento in faccia il sentirsi libero di prendere uscire farsi farsi un giro incredibile incredibile per chi non fa la bici è incredibile perché fare 70 80 chilometri e poi ritornare a casa è qualcosa che non ti dicono ma no ma io 80 chilometri in macchina mi stanco invece in bicicletta chi l'ha provato sa che qualcosa di meraviglioso e lì ho risentito questo vento in faccia questa libertà che da dalla carrozzina chiaramente erano sensazioni off limits diciamo no e quindi e quindi da lì è nato tutto perché poi da quel giorno non finivano allenamento e pensavo già al giorno dopo cosa avrei fatto quindi è stato un escalation non sentivo la fatica cioè non vedeva l'ora di uscire in bicicletta e migliorare poi ha cominciato a voler fare le prime gare da lì poi è iniziato tutto quanto l'incontro con alex è stato va bene tanto è avvenuto già qualche anno dopo diciamo che io ho iniziato con l'ambike nel nell'estate del 2003 ma le prime gare bere l'ho fatto c'era iniziato con qualche gara nel 2003 ma verso la fine per la bicicletta linea me l'aveva fornita nel agosto 2003 quindi ho iniziato quel periodo lì e ho fatto due gare mi sembra settembre ottobre un paio di gare dall'anno dopo però detto adesso proviamo bene mi sono allenato d'inverno quindi e io 2004 2005 fatto gare nel 2005 sono diventato campione italiano e lì ho incominciato a voler provare qualcosa di più cioè in italia a livello a quel tempo non era come quello di adesso che adesso l'italia la nazione più forte del mondo nelle bike ma era forse una delle con il livello più basso il migliorino tedeschi diciamo nazioni del nord francesi e quindi ho voluto andare a provare le gare le gare all'estero e nel 2006 ho cominciato a fare tutto il campionato europeo e nel 2000 diventando sempre meglio migliorando avvicinandomi sempre di più ai podi delle delle gare nel 2007 ancora di più tant'è che nel 2007 un po a sorpresa sono diventato campione del mondo venti giorni dopo che ho vinto il mondiale io che alex l'avevo incontrato nel 2005 se non sbaglio mentre andavo in spagna quando mi allenavo perché in un mese io per un mese vado ogni anno in spagna ad allenarmi in un posto che ci sono le strade molto più libre molto non piove quasi mai quindi un posto ideale per il periodo di febbraio marzo in autogrill all'ultimo autogrill prima del confine con la francia 20 miglia io e mia moglie ci fermiamo per fare qualcosa in autogrill e trovo il parcheggio disabili occupato e vedo un macchinone un bmw grosso dico questo qua il classico ricone che pensa di poter mettere la macchina dei disabili il posto della sua macchina nel posto dei disabili io mi ci metto dietro in modo che non possa uscire così almeno mi deve aspettare così la prossima volta si ricorda che se volete a fretta di andarsene deve aspettare a quello a cui ho occupato il posto e invece scende dalla macchina mia moglie ci fa no no ma guarda che è disabile e io ho detto ma non vedi che lei non lo conosceva io ero appassionato di motori già da tanti anni quindi sapevo benissimo anzi era devo dire non so se glielo mai detto ma era uno di quelli che mi piaceva di più perché erano di quelli che umanizzava molto la formula 1 gli piaceva spiegare le sue sensazioni quindi a me come atleta piaceva tanto come come pilota e però io non non l'avrei fermato perché di solito non non sono uno che piace la firma l'intervista già l'intervista le domande col col campione invece lui io ha visto sul tetto della mia macchina l'embike perché io avevo una station vegan ma per andare in spagna la rimpivano di roba la bici stava sul tetto e lui si è avvicinato a chiedermi informazioni dove cosa fai questo sport e per dirmi che lui aveva iniziato a fare sci a sestriere che gli sarebbe piaciuto se ma detto guarda la bmw prepara queste questi questi sci per i per i disabili prova lì e magari tu mi insegni un po di questo di questo mezzo e ci siamo lasciati con la promessa ci sono scambiati il numero con la promessa di risentirci e non ci siamo risentiti mi sembra per un anno intero forse un anno e me o due adesso mi ricordo se era gennaio 2005 2006 non lo ricordo benissimo però venti giorni dopo il mio mondiale mi chiama alex mi dice sai vittorio ti ricordi meglio si è fischi ti ricordo di te si guarda ti devo chiedere un favore io ho deciso di andare a fare la maratona di new york perché il mio sponsor che ha sponsorito la maratona diciamo mi ha chiesto e allora ho deciso di farla a maratona di new york e gli ho detto bello bello dai dai ci abbiamo anzi ci abbiamo quasi più di un anno per prepararla e lui ci fa no 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 ma non hai capito quella del prossimo del prossimo mese detto come del prossimo mese ma te sei matto cioè ma mai già iniziato noi non c'è neanche la bicicletta trova una bicicletta allora io gli ho trovato una bicicletta un amico svizzero che la stava vendendo e mentre lui in quel momento sta facendo ancora il pilota mi ricordo gliel'hanno consegnata a monza quella che non ero riuscito neanche andare su lui ha incominciato pensava che l'embike fosse come guidare una macchina cioè dove il motore c'è un motore tu vai sempre più forte per vedere e invece no invece lui si è reso conto che diciamo no ma non puoi fare tutti i giorni sempre 40 chilometri a tutta per vedere quanto vai più forte e no no ma perché oggi lo fai mi diceva oggi ma stavamo penso due ore al giorno al telefono e tant'è che abbiamo fatto mi ricordo che abbiamo fatto un abbonamento telefonico tipo io e me no come fanno i fidanzati e mi ricordo che le nostre moglie ci prendevano in giro perché io dicevo senti ades qua stiamo due ore al telefono tu magari i soldi ce l'hai ma io sinceramente ci costiamo un pochettino no ma non ti preoccupi vabbè tant'è che abbiamo fatto io e me così almeno alla tariffa e ogni tanto scherziamoci e prendiamo in giro questo io e me e niente quindi stavamo delle ore perché gli spiegavo tutti i segreti cioè no ma così sulla bicicletta poi lui è un tipo molto tecnico quindi ci siamo subito trovati in sintonia nel cioè lui aveva voglia di ascoltarmi anzi più mi ascoltava prima faceva nuove domande quindi tant'è che lui si è salvato ha fatto benissimo questa maratona per essere la prima la sua prima maratona proprio perché lui si stava allenando troppo e lentamente si stava stancando la sua fortuna è stata che ha dovuto spedire la land bike tra quattro giorni prima e quindi perché andava in america l'ha fatta spedire col cargo quindi in quel momento fu gioco forza ha dovuto riposarsi se no sarebbe arrivata la star maratona nio che talmente stando che non la forse l'avrebbe finita ma non certo con con i tempi che ha riuscito a fare e da lì però poi è nato tutto quanto è nato un amico soprattutto un'amicizia fraterna perché continuiamo magari non stiamo due dal telefono ma ci sentiamo tra quattro volte a settimana per telefono e abbiamo sempre qualche argomento di cui parlare che poi si possono essere anche i motori piloti però l'emba una domandina o un confronto sull'emba c'è sempre poi adesso io poi ho fatto dell'olimpiade di pechino nel 2008 e lui aveva iniziato da pochissimo poi nel 2009 ha cominciato a ingranare un pochettino ma soprattutto dal 2010 in avanti io ho capito che poteva anche perché fisicamente è una persona che ha qualcosa in più del non della media ma qualcosa in più del top diciamo la testa era quella di uno che aveva fatto il campione già in uno sport e non è una cosa poco non può essere anche un campione un biliardo ma gli cambi lo sport la mentalità già quella 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 vincente e conta e poi aveva questa grande passione che lui che non amava la bicicletta perché prima detto che non ho mai amato la bicicletta nelle bai ci vedeva un pochettino il mezzo un mezzo da guidare come quasi come le macchine anzi lui mi lui che è andato a quanto più di 400 all'ora negli ovari americani a volte mi dice che si diverte quasi anzi si diverte di più sull'emba e che quindi non lo sta dicendo uno che ha giocato a biglia fino al giorno prima ha fatto lo sport che per noi è proprio diciamo è mitizzato per la pericolosità o l'eccitazione che può dare la la guida di una macchina quindi devo dire che sto mezzo è proprio bello perché c'è l'impegno fisico ma c'è anche una certa dose di guida di sensibilità quindi abbiamo trovato proprio una cosa cioè io sono riuscito a trasmettere questa mia passione ma con facilità perché sai se è una persona ricettiva davanti tutto quello che tu esprimi hai davanti una spugna che lo assorbe quindi alla fine siamo diventati anzi adesso è lui è incontenibile da questo punto di vista a tutti e due è servita questa questa conoscenza anche dal punto di vista sportivo tecnico perché siamo ci siamo stimolati a vicenda un'idea che viene a uno l'altro la elabora poi ci aggiunge qualcosa quindi il fatto che poi noi due poi tutta questa nazionale diventata forte è anche dovuta a tutta questa unione di cose io sono stato il primo a portare le bike in italia in un certo livello anzi sicuramente però ho voluto da subito cercare di creare un gruppo perché io ho l'idea che quello che tu sai se lo tieni segreto per te muore con te diciamo con quello che tu finisci invece se tu lo 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 diffondi e lo lo fa in modo che anche altre persone ne possano approfittare tu il giorno che finirai comunque c'era qualcosa che puoi dire ho costruito anche io e devo dire che questa nazionale sta dando soddisfazione a tutti ma soprattutto a me perché l'ho vista crescere l'ho vista diventare adesso noi siamo di un ritiro in cui ci sono dieci bike ma è una cosa che nel 2008 era una cosa impensabile anzi se non avessi vinto nel 2007 l'anno prima al mondiale forse a pechino non ci sarebbe stata nessuna un bike chissà per quanto tempo non ci sarebbe stata nessuna bike a grandi livelli invece nel 2012 l'em bike è stata quella che ha portato tantissime medaglie al chip ma soprattutto al paraciclismo e il gruppo è cresciuto siamo diventati la nazione a squadre che ha vinto tre mondiali in seguito e dopo l'argento a pechino quindi in questo momento noi non abbiamo dobbiamo aver vergogna dire siamo la nazione più forte del mondo in en bike senza dubbio e per uno che è stato il primo a iniziare è una grande soddisfazione 2008 pechino è stata la mia prima olimpiade veniva da l'anno prima in cui avevo vinto un mondiale e devo dire che io ero molto molto giovane per molto giovane non come età ma come esperienza ad altissimi livelli perché quando si raggiungere il livello alto di qualunque sport e 6 lo raggiungi anche un po non tanto a sorpresa ma a sorpresa soprattutto per te stesso perché non pensavi di riuscire ad arrivare così vicino la cosa un po si complica perché ciò che non avevi previsto un pochettino ti spaventa no e soprattutto quando arrivi a un certo livello che tu sei campione del mondo già la parola campione del mondo ti fa pensare che tutto il mondo non vede l'ora di batterti no e quindi ad ogni gara tu sei la persona dell'atleta da battere quando io e di solito mi trovo dall'altra parte che doveva battere qualcuno perché per cercare di raggiungere quello era il mio obiettivo adesso essere l'obiettivo di altri e io non l'avevo messo in diciamo in considerazione in quel periodo magari lo sognavo per il futuro ma ma lo solo solo sognavo e lì ho avuto una fase un po di brutta dal punto di vista cioè nell'affrontare non brutta nel senso difficoltosa ad affrontare per psicologicamente pechino è andata bene nonostante io quell'anno lì mi sentissi sempre un pochettino messo in discussione perché io ero in nazionale comunque l'ultimo arrivato e di uno sport che fino a quel momento non aveva avuto tanto dignità di 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 come gli altri cioè io ero ero il ciclista con tre ruote era quello che in carrozzina anche se non ero stato il primo in nazionale ma il primo che avendo vinto il posto all'olimpiade comunque bisognava considerarlo no perché l'olimpiade non è che vanno possono decidere tutti i posti sono congenti gentati ogni nazionale sempre meno posti di quanto avrebbe atleti che potrebbero che potevano potrebbero meritare e quindi diciamo che era un po un elemento estraneo a questa nazionale di ciclismo quindi anzi spesso si diceva ma ma questo non è ciclismo fate con le braccia se avete tre ruote sono due cose sono due sport diversi anche perché si intuiva un pochettino che arrivava qualcuno che diciamo sai nel mondo dello sport quando i posti sono meno e tutti sgomitano diciamo no e quindi io un pochettino un po so ho subito quello e ho diciamo sofferto un po quello poi ho sofferto anche un pochettino al fatto che di aver paura di non essere all'altezza e invece sono arrivato all'olimpiade in ottime condizioni ho fatto un buon olimpiade però invece che essere contento dalla medaglia d'argento vinta che per la carriera di un atleta potrebbe essere anche basta potrebbe bastare io avendo perso per soli sei secondi sapendo di aver fatto una gara eccelsa cioè per la condizione che avevo io ho continuato a pensare di aver perso l'oro e non di aver vinto l'argento e questo è un tarlo che per un atleta è un brutto è una brutta sensazione e infatti negli anni successivi ho continuato ad avere non un buon approccio psicologico alle competizioni e arrivando sempre molto vicino a vincere senza vincere ho fatto secondo nel 2009 di nuovo ai campionati del mondo nel 2010 ho vinto la coppa del mondo ma al mondiale sono andato molto male il 2011 è stato l'anno in cui io ho invece resettato tutto quanto e ho detto no adesso io voglio dimostrare a me stesso per primo quanto valgo più di quanto l'avevo si fatto fino a quel momento cioè senza la paura di di non essere all'altezza no dire allora io varrò un tot però vediamo di dimostrare quanto è questo tot non se non rimanevo sempre un gradino indietro e infatti nel 2011 mi ricordo che per riconquistarmi la nazionale dal quale ero stato estromesso nella gara meno adatta alle mie caratteristiche ha fatto una vittoria che forse io ho vinto ho fatto 250 gare avevo fatto una novantina di vittorie no e quella era una gara internazionale ma non è il mondiale o l'olimpiadi però è forse quella che ricordo come la più mia più grande vittoria perché è stata quella che mi ha fatto fare il click mentale cioè ho detto oggi ho vinto la gara più difficile per me ma l'ho vinto in un modo mi ricordo che avevo staccato tutto tutto il gruppo che cercava di inseguire mi ho fatto 17 chilometri sempre da solo con tutto il gruppo mi inseguiva ma io mai avrei mollato sono arrivato da solo è stata per me proprio la dire cioè sei vinto così e vinto vuol dire che l'hai voluto l'hai e quindi mi ricordo che proprio da lì è scattato tutto però quell'anno c'era c'è stato comunque un imprevisto dietro l'angolo mentre stavo preparando quel mondiale lì in danimarca ho fatto un incidente in allamento molto grave mi sono schiantato contro una macchina che era praticamente ferma io 30 all'ora mi sono rirotto alcune vertebre e sono stato 15 18 giorni fermo nel letto e avevo quasi gettato la spugna ci ho detto a mondiale io ho fatto l'incidente il 16 di luglio il mondiale era il 9 di oggi di settembre quindi pochissimo tempo io ho tanti episodi in cui una sfortuna si è trasformata in una grande fortuna c'è stata quella che mi ha fatto ancora salire un gradino intanto alex e in quel momento mi ha fatto parlare col dottor costa gli ha fatto vedere le mie lastre dottor costa della clinica mobile che era della clinica mobile del motociclismo che nel frattempo era diventato un amico un mio amico mi ha detto guarda vittorio è vero che ci vogliono tre mesi per saldare le lastre le vertebre ma questo per le persone normali perché io sono normali voi non siete normali quindi quello che che fate voi e quello che il vostro corpo può fare quello quello è la media delle persone voi non siete dentro questa media qua quindi devi chiaramente stare attento ad allenarti non rifare un incidente così perché potrebbe allora a creare dei problemi ancora più grossi ma sicuramente puoi ricominciare appena tu non senti dolore ricomincia ad allenarti e io mi ricordo che passavo dal letto e in carrozzina sentivo dei dolori incredibili però mi rimettevo sdraiato sull'embike e non avevo dolore perché ero sdraiato come a letto e quindi lì lì ho ricominciato a fare rulli ad allenarmi indoor e per una decina di giorni poi sono andato a fare un test da quello che sarebbe diventato il mio allenatore e ho ricominciato ad allenarmi però fino a quel momento io negli ultimi anni mi ero diventato l'allenatore di me stesso avevo avuto altri allenatori ma siccome avevo capito che spesso magari ne capivano quasi meno di me allora ho detto vabbè mi alleno da solo io torno indietro di un paio di settimane perché prima di fare questo incidente nel 2011 mentre lavoravo con un'azienda che sviluppava componentistica per me per la mia in bike conosco francesco chiappero che era l'allenatore del proprietario di questa azienda e incominciamo a parlare lui mi dice che che fa l'allenatore anche per una squadretta della zona lì del piemonte di cuneo e che un giorno il piacerebbe piaciuto provare ad allenarmi se io avevo un allenatore guarda siccome parlando li ho capito che era una persona tipo me e alex cioè curiosa che non sa tutto ma quello che fino a quel momento poi aveva potuto impararlo l'ha imparato senza che nessuno glielo chiedesse curiosa e vogliosa di lavorare con persone di alto livello nel campo che gli interessa no e io gli ho detto guarda adesso sta per finire la stagione questo mondiale ormai non sto a cambiare niente però ci sentiamo dopo settembre così programmiamo l'anno olimpico perché mi ero reso conto che essere l'anno di se stesso ha dei lati positivi ma dei lati negativi perché tu non sei oggettivo nel valutarti tant'è che è successo questo incidente e io in questo incidente ho pensato ok io sono stato 15 giorni fermo quindi devo quasi ricominciare a zero sicuramente in un mese e mezzo non posso arrivare al cento per cento pronto per questo mondiale e se lo faccio io ancora peggio magari mi stanco troppo e quindi anche quel poco che potrei fare lo farei male perché arriverei al mondiale troppo stanco ok prendiamo due piccioni che non ha fava io provo intanto provo questo allenatore quanto bravo è mi affido a lui completamente e gli dico guarda la situazione è questa io ho fatto un incidente sono stato 15 giorni fermo abbiamo il mondiale tra un po' vedi tu cosa puoi fare e lui mi ha detto va bene io accetto la sfida perché mi piace la cosa vediamo cosa riusciamo a fare e lui ha avuto questa intelligenza di darmi il lavoro giusto la quantità giusta il volume giusto e farmi riposare nel momento cioè nel momento giusto per cercare di dare il ero arrivato al 70 80 per cento ma quel 70 per 80 per cento dovevo darlo in gara e io infatti con quel 70 80 per cento sono riuscito ad arrivare secondo a un minuto dal vincitore ma pochi secondi prima della medaglia di bronzo quindi lì è stato un altro scalino un altro gradino salito perché ho capito di avere delle risorse che non sapevo di avere e me l'hanno fatto scoprire gli altri no il mio allenatore il dottor costa alex che mi conoscevano ma è bene meglio di quanto mi conoscessi io nella gara in linea sapendo di non essere perché mi hanno allenato chiaramente per la cronometro ma per la gara in linea che era una gara è una gara molto più lunga con allenamenti diversi sapevo di non essere all'altezza e allora mi sono messo a disposizione mio compagno di squadra che anche lui ha preso la medaglia d'argento cioè io tutta la corsa quando ho visto che non c'era la possibilità non avevo le condizioni per farlo mi ricordo che ero andato in fuga con i con tre atleti però ci hanno ripreso e ho capito che io intanto le mie forze stavano calando allora io ho dato tutto per cercare di mantenere il gruppo compatto e il mio compagno paolo cecchetto che era il più veloce cercare di fare in modo che nessuno scappasse lui potesse giocarsi almeno secondo perché il campione del mondo era scappato ormai era imprendibile cercarsi di giocare la sua gara in vola la sua è lì per me quel giorno lì è stato quasi non dico aver vinto io ma comunque sapere di aver contribuito alla vittoria della medaglia per il mio compagno è stata una cosa meravigliosa diciamo non mi ricordo che mi emoziono ancora adesso perché avevo pianto per quelle per quella sua medaglia non per la mia quindi è una cosa che mi era mi era piaciuta molto e niente quindi ok adesso ci fermiamo secondo un mese dopo quel mondiale lì io ho raggiunto quel picco di forma meraviglioso e sono a ho finito la stagione vincendo ma per la prima volta conquistando il primo posto nel ranking perché fino al momento ho fatto secondo e per quell'anno lì ero diventato comunque nonostante l'incidente il primo della classifica finale dell'unione ciclistica internazionale quindi un anno che nonostante tutto anzi nelle difficoltà sia all'inizio nel dover dimostrare sia dopo dopo l'incidente mi ha dato una consapevolezza che non mai avrei pensato di ottenere e l'anno olimpico anche lì diciamo che è andato abbastanza bene anche se qualche insicurezza è riaffiorata l'anno in quell'anno però comunque sono arrivato forse un po troppo stanco quell'appuntamento perché l'entusiasmo e il del nuovo allenatore che ha tirato diciamo è riuscito a tirare fuori dalle mie capacità ancora prestazioni ancora più grandi che non avrei immaginato che però in ogni anno in cui se c'erano olimpiade bisogna comunque fare perché l'anno olimpico c'è sempre un gradino in più da da fare diciamo che sono arrivato olimpiade vincendo due medagli di bronzo individuali quando forse in entrambe avrei avuto la possibilità di vincere una perché comunque non ho dato io il meglio nella gara cronometro e nella gara in linea perché ho avuto una paura di perdere anche l'arge il bronzo e quando ero in fuga da solo e allora aspettato ho aspettato cioè ho capito che era il caso di di non provare a riguarda solo perché nel caso fossi stato preso da tre avversari dietro quei avversari mi avrebbero sul cassato poi sull'altra linea traguardo e avrei sarei rimasto con la medaglia di legno allora per non per non vincere la medaglia di legno o quasi abbandonato la possibilità di vincere la medaglia d'oro che tornando indietro forse non lo farei però sono esperienza anche queste devi decidere in un secondo quando sei in gara quindi tra 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 quello che il cervello riesce a elaborare con l'acido lattico a al massimo diciamo che è uscito quello con la decisione che mi ha comunque portato una medaglia di bronzo la seconda il giorno dopo una medaglia di argento insieme ad alex e francesca fenocchio nel nel team relay e quindi bellissima esperienza londra poi secondo me rimarrà io lo dico anche dopo pechino ma londra secondo me a livello di coinvolgimento delle persone il luogo in cui eravamo ha fatto fare proprio il salto al diciamo al movimento paralimpico e in particolare ma noi eravamo in un scenario bellissimo nella pista di branzeccio con tantissime persone a vederci quindi è stato entusiasmante proprio partecipare oltre che vincere quindi poi con tanti familiari anche vederci perché eravamo comunque vicini all'europa quindi all'italia quindi anzi addirittura mio fratello mio padre insieme ad altri hanno fatto mille passa chilometri per venire a londra in bicicletta in diverse tappe quindi è stato è stato molto molto bello però da lì ecco londra è stata finalmente la totale consapevolezza delle mie capacità tant'è che io adesso sintetizzo ma se ci si pensa bene io dal 2013 in avanti 2013 ho fatto ho vinto la mia secondo il mio secondo mondiale cronometro ho fatto terzo nella gara in linea quindi bronzo una gara in linea l'anno dopo 2014 a greenville negli stati uniti ho fatto secondo nella cronometro e ho vinto la gara in linea e l'anno scorso in svizzera vinte tutte e tre perché poi ho vinto la cronometro vinto la gara in linea ho vinto il timbre lei come avevamo fatto anche nel 2013 2014 insieme ad alex ea luca mazzone un nuovo atleta che era arrivato nel 2013 che si è dimostrato subito di grande altezza un'altra persona al quale senza i modestia posso dire che ho ho insegnato un po di cose io gli ho lasciato un po di segreti un po di conoscenze importanti per questo sport che alla fine però poi hanno dato soddisfazione anche a me quindi io dico sempre che alla fine tenere segreti non è una buona soluzione